Non si può parlare di emergenza, almeno non ad Andria, ma il problema resta, anzi torna a presentarsi con l'arrivo dell'estate, quando complici il troppo caldo e le lunghe giornate passate al mare, i donatori di sangue purtroppo calano drasticamente. Una flessione che dunque fa rima con bella stagione, una sorta di calo fisiologico che tuttavia non deve essere sottovalutato perché di sangue, come di solidarietà, c'è sempre bisogno. Ce lo hanno ricordato i volontari dell'Avis e i dottori che lavorano nel centro trasfusionale dell'ospedale Bonomo di Andria, da dove ricordiamo partono mensilmente circa 300 sacque di sangue al mese, più di 3.600 l'anno, destinate ad altre strutture sanitarie del territorio nazionale, ben oltre il 50% di quanto raccolto grazie alla generosità dei donatori. Fortunatamente questa città è molto generosa, noi manteniamo sempre un alto il numero dei donatori che ci consente anche di intervenire nelle carenze delle altre strutture regionali e extra-regionali con cessioni di sacche di sangue laddove vengono richieste. Tenga conto che nel 2017 questa struttura a livello regionale è stata la prima per cessioni di unità ad altre strutture regionali, quasi 4.000 unità di sangue sono partite da questa città per tutta la regione e anche per altri ospedali nazionali come il Forlanini, il Gemelli e la Regina Elena di Roma. Quindi noi invitiamo sempre a mantenere alta l'attenzione sul problema della donazione di sangue perché gli ammalati non vanno in vacanza come i donatori che non vengono a donare. L'appello è quindi a tutti i donatori affinché continuino ad alimentare la macchina della solidarietà anche durante la bella stagione perché la raccolta di sangue non ha confini e non si può fermare neanche durante le vacanze. Sia per motivi di natura scientifica perché in questo periodo possono accadere politraumi in numero epidemiologico maggiore e sia perché ce lo insegna anche quello che è accaduto due anni fa a luglio, l'impatto emotivo poi quando accade qualcosa può produrre confusione e ci vuole una mole di lavoro raddoppiata a livello energetico. Quindi l'invito è sia laico come Nazimi Hikmet oppure più sacro come Don Torino Bello a donare perdonando nel senso che bisogna donare al libibum perché non si può cercare un alibi sulla donazione, è una delle cose più belle che esiste.